Leggendo le dichiarazioni di Michele Emiliano, siamo stati colpiti da incredulità e sconcerto. Vendola ha chiuso 22 ospedali. Emiliano ha altri otto, ma afferma che i 31 sopravvissuti siano troppi nella nostra regione. E' quanto dichiara il presidente del gruppo consigliare di Forza Italia, Andrea Caroppo. La domanda che ci permettiamo sommessamente di rivolgere al presidente della Giunta regionale è questa. Dove saranno costretti a curarsi i pugliesi? Nelle altre regioni? Evidentemente, aggiunge Caroppo, Emiliano fa il tifo affinché il piano di riordino ospedaliero trasmesso a Roma venga bocciato, con annessa richiesta di ulteriori tagli al servizio sanitario regionale. Le dichiarazioni del governatore di Puglia lasciano intravedere una prospettiva preoccupante. Se i 31 ospedali restanti sono troppi, significa che ne vorrebbe chiuderne altri. Con tutti questi tagli, conclude Caroppo, ci chiediamo cosa ne sarà della nostra sanità fra 5 anni al termine della legislatura e quale sia il senso di responsabilità che muove il governo regionale nell'assumere posizioni così confliggenti con gli interessi e i bisogni dei pugliesi.